A partire dal 22 febbraio 2015 le cabine telefoniche sul territorio aretino, anzi più precisamente sul territorio nazionale, verranno rimosse. In alcune sono già comparse all'esterno dei cartelli affissi pochi giorni fa che parlano appunto della data del 22 febbraio 2015 come giorno nel quale verranno rimosse. E' finita praticamente un'epoca, finisce un'era quindi quella delle cabine telefoniche, quella anche degli scherzi telefonici o più semplicemente guardando alla stretta utilità quella delle chiamate di emergenza. Le cabine telefoniche quindi non sono riuscite a tenere il passo degli smartphone come ad esempio negli ultimi anni, a partire dagli anni 2000, infatti nelle cabine telefoniche era partita una sorta di rivoluzione come in questo caso nella quale era possibile non solo telefonare ma era possibile anche viare sms, fax ed email. Gli smartphone quindi mandano in pensione le cabine telefoniche ma non tutte, infatti nei cartelli affissi e che abbiamo trovato in alcune cabine telefoniche della città di Arezzo e anche della stessa provincia di Arezzo, il cartello avvisa che la Gcom, l'autorità garante per le comunicazioni, quella che ha scelto e ha deciso di mandare in pensione le cabine telefoniche, avvisa comunque gli utenti che è possibile salvare alcune cabine. È possibile farlo inviando entro 30 giorni dall'avviso, vale a dire entro praticamente la fine di gennaio, una PEC, una email quindi di posta elettronica certificata all'indirizzo segnato sulle cabine telefoniche motivandone ovviamente la scelta e firmando ovviamente la mail. Attenzione però non tutte le cabine telefoniche verranno rimosse perché quelle all'interno di carceri, ospedali o comunque luoghi pubblici ritenuti di particolare interesse appunto manterranno la loro funzione.